Seconda giornata della pool promozione per il Valle Soverato, trasferta a Ravenna dopo la vittoria al tiebreak con Torino, una partita sicuramente importante contro un avversario ostico che avete affrontato appena poche settimane fa, che vi ha eliminato dai quarti di finale della Coppa Italia, quindi un avversario con un roster importante. Sì, sicuramente andiamo ad affrontare una squadra abbastanza tosta, come penso tutto il resto del girone, delle squadre che ci aspetteranno, e penso che andiamo lì tutte con tanta voglia di riscattarci da una brutta sconfitta in Coppa Italia. Partita domenica scorsa la pool promozione con una vittoria sofferta al tiebreak contro Torino, che praticamente ha dato l'idea di quello che sarà questa pool promozione. Un Soverato che comunque parte da questo terzo posto importante da mantenere in chiave playoff poi eventualmente. Sì, diciamo che tornare a giocare le partite dopo uno stop importante non è stato facile, soprattutto per il ritmo partita, ma insomma ci aspettavamo che non sarebbe stata facile come gara, sotto tutti i punti di vista. E niente, sì, è un assaggio di quanto sarà duro questo giro. Partendo dalla partita che avete perso con Ravenna qualche settimana fa, dove sicuramente avete giocato al di sotto delle vostre possibilità, cosa si deve fare per battere questa squadra, che è una squadra completa in ogni reparto e che soprattutto è giocatrici di grande esperienza? Beh, anche riguardando la partita nostra, dove abbiamo analizzato i nostri vari errori, credo che è la prima cosa che serve la determinazione e quindi sicuramente scendere in campo con un'altra testa e provare ad aggredire questo nostro avversario in maniera diversa. Anche con il vice allenatore del Vole Soverato, Diego Boschini, presentiamo questa sfida di domenica prossima, seconda giornata della pool promozione, trasferta a Ravenna. Dicevamo con Vittoria Repice, un avversario che avete affrontato poche settimane fa, che vi ha eliminato dalla Coppa Italia. Presentiamo questa squadra, le caratteristiche tecniche, un roster importante, con giocatrici di grande esperienza. Sì, abbiamo affrontato Ravenna nel nostro recente passato, 20 giorni fa, fondamentalmente in Coppa Italia, dove siamo stati sconfitti per 3-0. Chiaro che abbiamo tanta voglia di rifarci da quella prestazione, sicuramente. È stata una partita giocata qua in casa, non al nostro massimo potenziale. Speriamo di andare a Ravenna per invece esprimere tutto il nostro gioco e stiamo lavorando per quello. La squadra è una squadra importante, con delle giocatrici molto importanti. L'unico peccato è che non ci sarà la loro palleggiatrice titolare, che purtroppo ha subito un brutto infortunio al taglio di Achille. Però comunque noi non dobbiamo sottovalutare nessuno, neanche in situazioni di difficoltà, perché comunque tutte queste squadre hanno delle giocatrici che possono essere sostituite e dare il loro contributo comunque al massimo. Quindi non va affatto l'errore di sottovalutare una squadra per queste motivazioni. Un soverato che probabilmente ha accusato lo stop troppo lungo dopo la fine della regular season. Domenica scorsa si è ricominciato a giocare, una vittoria sofferta. Quali sono gli aspetti dove, secondo te, la squadra deve migliorare alla luce della partita di domenica scorsa? Sicuramente ritrovare un po' il nostro ritmo gara. Questo è uno dei punti focali. È chiaro che l'assenza di 20 giorni di partite a questo livello comunque si fa sentire. Però diciamo che a livello tecnico la squadra sta reggendo bene a tutte le proposte tecniche che stiamo portando in palestra. Quindi è chiaro che poi bisogna vedere il risultato sul campo. Questo è chiaro e scontato. Ci vorrà ancora qualche partita per rivedere il soverato di fine anno.